buongiorno oggi è il 14 agosto quindi innanzitutto tanti auguri a me buon compleanno sono 21 anni direi che con oggi si può inaugurare il primo blog lungo di una giornata quindi non sarà un daily vlog ma sarà una settimana vlog ho deciso di provare a fare questo esperimento e ho deciso di farlo proprio nella settimana nel mio compleanno nel quale appunto sarò quasi in montagna a sestola detto questo via quella colazione perché inizio aver fame colazione 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 sì ovviamente per il mio compleanno ho deciso di farmi la colazione in giardino e quindi abbiamo succhino al melograno che è fonte di vitamina c quindi fa tanto benino e poi i biscottini questi qua mi stanno piacendo un sacco ok siamo al ristorante siamo a pranzo non penso di filmare tantissimo perché comunque oggi è il compleanno quindi cioè filmo un attimo molto velocemente allora come antipasto ho deciso di prendere i ravioli al vapore ripieni di anatra e marinata alla birra e poi per adesso ho deciso di prendere tra i primi i fagottini ripieni di maialino al latte con salsa al mirtillo nero che diciamo mi ispirano abbastanza quindi dopo ci vediamo quando ma arrivano i piatti buon compleanno grazie grazie la metti in post produzione grazie a tutti ok siamo tornati a casa allora il ristorante il maneggio qua su a sestola in provincia di modena ve lo straconsiglio come posto perché è veramente molto molto buono e ho mangiato veramente molto bene e mi hanno fatto una torta veramente stupenda ora sono quasi le 4 quindi ho deciso di fare una breve live su red tv dico breve perché è il cielo se vedete tornando particolarmente nuvoloso e nel astro quindi secondo me tra un po verrà a diluviare e quindi non evitare di ripiegare l'acqua faccio adesso la live e poi dopo al massimo andrò in casa a leggere un po di libro per oggi direi che ciao ok ora di cena adesso stiamo andando a mangiare la pizza e non penso che filmerò perché il pub dove stiamo andando a mangiare la pizza è notoriamente un inferno nel senso che c'è sempre un sacco di casino e c'è un gran rumore quindi le riprese sarebbero inutili magari vi metto qualche fotina della pizza adesso e poi ci rivediamo quando torno a casa perché sicuramente vi faccio mini video della seconda torta seconda perché io ovviamente due torte perché una non basta ok siamo arrivati a casa dopo la pizza avete visto le foto e adesso c'è la seconda torta che è molto molto carina perché come potete vedere c'è la mia foto c'è un piccolo pixel con un piccolo coniglio e poi è scritto amori quindi adesso mangiamo la seconda torta buongiorno allora oggi è a ferragosto è già ora di pranzo stamattina non ho registrato nulla perché non ne avevo voglia detto come va detto e oggi comunque la prendo molto come relax come giornata e ovviamente essendo ferragosto stiamo facendo una grigliata e quindi adesso qualche ripresina della carne che si cuoce perché è molto bella da vedere e spero sarà anche buona perché è una gran fame che è molto bella Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.